Salve a tutti ragazzi sono sempre io il vostro Arby82 e partiamo con una nuova recensione Questa volta ragazzi è un'altra volta il turno di un Meat Cloth Questa volta della serie Revival Jabu dell'Unicorno Diciamo uno dei cavalieri di bronzo inferiori Diciamo della seconda squadra dei bronzi Ed ecco qua Peccato che questo personaggio ragazzi è molto bello esteticamente come cavaliere Però peccato che come tutti sappiamo nell'anime non ha un grande spazio Anzi è pure un pochettino, anzi un po' tanto scarso Però esteticamente è molto carino Peccato che non è stato uno diciamo dei protagonisti insieme agli altri bronzi E niente Questo è il suo packaging classico Vedete la bellissima action figure illustrata qui Il simbolo zodiacale dell'unicorno qui Una costellazione voglio dire Qui l'altra facciata laterale Qui il cavaliere con pose action Di vari visi intercambiabili L'object Sempre il cavaliere qui Quest'altro Un'altra bellissima immagine del nostro meat cloth E niente Sopra e così Sotto così E adesso apriamo questo bel pacchettino E vediamo cosa c'è al suo interno Eccomi è ritornato ragazzi Abbiamo aperto la nostra confezione Vediamo cosa c'è al suo interno Come sempre c'è il libretto illustrativo Quello delle istruzioni per montare il cavaliere Ci sono due blister Il primo blister Vediamo al suo interno che c'è il personaggio di Usher Che io lo chiamo Usher I due visi intercambiabili d'azione Uno con bocca aperta Un altro con bocca tigrignata Vedete Il suo elmo dell'unicorno Bellissimo I due bracciali Questi qui sono i copricoscia Ginocchiere Paras I schinieri E tre paia intercambiabili di mani Queste sono le placchette per i dorsi delle mani E questo è il primo blister Il secondo blister Vediamo la capigliatura per indorsare l'elmo I due coprispalla La pettorina Questa è la parte frontale del cinturone Questa è la parte posteriore del cinturone E questo è l'unicorno che poi si mette l'armatura addosso Adesso vediamo com'è in forma di costellazione 3, 2, 1 Eccomi di ritorno ragazzi Ragazzi questo Diciamo che è il totem più facile che ho montato Se ve lo dico io che odio montare i totem E' vero Ci ho messo veramente Neanche 5 minuti ragazzi Veramente Semplice 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 E allo stesso tempo E' molto molto carino Adesso vi avvicino un po' Lo faccio vedere Sperando che metta a fuoco il telefono Eccolo qui ragazzi Guardate che bello Ecco qui L'unicorno Nel suo Object Questo è l'elmo Qui Lateralmente sono i coprispalla Questi Dietro qui Alle zambe Posteriori sono I due bracciali Qui c'è la pettorina E Nelle zambe anteriori c'è il copricoscia Lo schiniero E La ginocchia E' Veramente Molto molto Facile Guardate che spettacolo Semplice E Bello Mi piace un casino la colorazione di questa armatura Nel Violaceo qui Bellissimo Proprio come si vede Nella sua controparte Animata Ed eccolo qui L'unicorno Ora Montiamo l'armatura Addosso al personaggio 3 2 1 Eccomi qui ragazzi Ho montato l'armatura addosso al personaggio E E' splendido ragazzi E' veramente splendido Uguale uguale Come ho detto prima La controparte animata Facilissimo da montare E niente Adesso ve lo faccio vedere Guardate che spettacolo Guardate Aspettate Eccolo qua Il viso è una cosa eccezionale Ragazzi Andate qua E' proprio Aspettate Sembra veramente uscito dal cartone animato Con i sopracciglioni Vedete ragazzi Il viso pulitissimo Bellissimo L'armatura Calza Veramente Alla perfezione Ragazzi Non c'è niente da dire E' spettacolare Guardate E lo faccio vedere così Grazie Eccolo qui Guardate Che spettacolo Purtroppo ragazzi Non ho Il primo Meet Cloth Classic Di Unicorn Però vedendo le Dalle recensioni Ho visto Cioè E' totalmente Diversa L'armatura E' Totalmente Di un altro colore Cioè E' anche Non è neanche Diciamo Diciamo In questo colore Lucido Metallico Metallico Sembra più opaca E' molto più chiara Sembra più chiara E' proprio totalmente Diversa Da questa qua Mi sembra Da quello che ho visto L'unica pecca Ragazzi Di questo Cavaliere Vedete qui Dove c'è il ciuffetto Dei capelli Qui Che tocca Sopra L'armatura Che non si riesce A raddrizzare bene La La testa Così Testa un po' Inclinata Così Rimane Un poco Inclinata Così Ho visto anche Altre recensioni Hanno detto La stessa cosa Ragazzi C'è proprio Vedete questo ciuffetto Qui Che Porta qui sopra E Dobbiamo tenere un po' così E poi Questa armatura E' molto semplice E' molto bella Però l'unica cosa Che non mi piace Diciamo E' la forma Del Del gonnellino Qui Del cinturone Che mi sembra Una mutanda Sgambata Ragazzi O una cintura Di castità Ecco Comunque Il myth E' Bellissimo Niente 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 Da dire Di farvi vedere La differenza Con Il Myth Revival Di Pegasus Seiya Eccolo Qui Ragazzi Alcune Parti Dell'armatura Di Unicorn Sono Molto simili A quelle Di Pegasus Per esempio I schinieri Sono Sono Abbastanza simili Diciamo Solo che Pegasus Ha questi Dettagli Qui Questo Dettaglio Qui E poi Anche Guardate L'elmo Guardate Il muso Dell'elmo I due Elmi Qui Vedete Sono Molto Molto Simili Però Niente Da aggiungere Sono Tutte Due Bellissime Adesso Lo vado Aggiungere Nella mia Vetrinetta Con gli altri Bronzi Spero Che facciano Anche Gli altri Bronzini Adesso Metto Così Facciamo Anche La seconda Squadra Di questi Cavalieri Di Atena E Ragazzi Niente Quello Che Vi volevo Dire Ve l'ho Detto Il Meet È E Questa Armatura Calza Perfettamente Niente Niente Da dire Il Viso È Spettacolare Potete Vedere Da voi Il Corno Sulla Fronte Qui È Fatto Benissimo Questo Colore Argentato Cromato È Niente Ragazzi Questa Era La mia Nuova Recensione Dedicata Da un altro Cavaliere Dello Zodiaco Un saluto Da Arbe 82 Un bacio A tutti I miei Iscritti E Ricordatevi Wakanda Per Sempre